Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, coi voti favorevoli di PD e Italia Viva e quelli contrari di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, la proposta di delibera di integrazione alla nota di aggiornamento al DEFRO 2021, la proposta di legge che contiene gli interventi normativi collegati alla prima variazione di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e la proposta di legge per la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. In tempi molto rapidi è arrivata la variazione di bilancio. Il Consiglio regionale e le commissioni in pochi giorni hanno dovuto affrontare la più importante misura finanziaria dall'inizio dell'anno ad oggi, una misura che prevede dal punto di vista della spesa una compartecipazione imponente della Regione Toscana al cofinanziamento in vista della nuova programmazione comunitaria relativa ai fondi FEAS e FSE. Si tratta di misure importanti da questo punto di vista che ci preparano al nuovo ciclo di programmazione e che si affiancano a una serie di interventi puntuali che cercano di essere la risposta che la Regione Toscana dà in questo momento dell'anno alla crisi economica e sociale che è nata dalla pandemia, andando ad intercettare quelle categorie e quei contesti nei quali è diventato più stringente la necessità di un sostegno pubblico, in particolar modo dal settore della cultura alla scuola fino ad arrivare alle attività economiche e commerciali e anche ai complessi fieristici. Si tratta infatti di misure che valgono a dare un sostegno effettivo a coloro che operano in questi settori. Dall'altra parte c'è anche però l'esigenza di intervenire con adeguate misure e con validi strumenti su un settore altrettanto delicato e strategico del territorio regionale che è quello della viabilità pubblica attraverso una serie di misure di sostegno che vanno ai territori, agli enti locali, soprattutto con misure imponenti che riguardano il Comune di Firenze, la provincia di Pistoia e Pisa. Non è possibile che questo materiale così importante, così delicato, che ha bisogno di un approfondimento sul territorio e anche tecnico, arrivi in fondo e ci si chieda di essere portato in aula cinque giorni dopo. Noi abbiamo vissuto questa settimana fitta di consigli, avevamo nel Consiglio che si è chiuso pochi giorni fa 21 atti all'ordine del giorno tra proposte di legge e proposte di risoluzioni. Quindi ci è stato di fatto impedito come consiglieri di poter approfondire e quindi fare il nostro lavoro. Questo per noi è inaccettabile, abbiamo già chiesto alla Capigruppo che non si ripeta più, però ovviamente bisogna rimarcare il fatto che non siamo stati messi in condizione di svolgere le nostre funzioni, quelle dell'opposizione, quelle dell'approfondimento, quelle anche di poter proporre qualcosa di alternativo, perché per farlo abbiamo bisogno di tempo. Il tempo non ci è stato dato e questo è un problema grossissimo di programmazione che ha questa giunta. Speriamo che non si verifichi più perché credo che una buona maggioranza funziona anche se c'è un'ottima opposizione e l'opposizione loro non la mettono in grado di poter lavorare. È quasi impossibile da valutare come nostra di aggiornamento perché ci è arrivato due giorni fa con la preghiera di licenziarlo entro la pausa estiva dei lavori per motivi di massima urgenza. Questo ovviamente una volta lo puoi concedere, basta che non diventi prassi, però diciamo che è stato quasi impossibile capire cosa c'è all'interno di questa nostra aggiornamento. Da quel poco che abbiamo visto parole al vento e anche malfatte. Faccio un esempio su tutte, l'aspetto sanitario che insomma non credo che purtroppo sia ancora un aspetto secondario né in Toscana né altrove. Sulla sanità se uno legge la nota di aggiornamento al documento economico e finanziario della regione toscana la nota inizia dicendo che nei primi mesi del 2021 la Toscana inizierà un piano vaccinale contro il covid-19. Cioè è aggiornato un anno fa. Quindi questo è quello che ci viene proposto di votare in aula. Su altri aspetti ci sono considerazioni veramente superficiali. Il sistema della mobilità è demandato tutto a un'esaltazione della tranvia fiorentina come sistema di collegamento per l'intera area metropolitana, che è una follia, è un'infrastruttura che a Firenze ha canterizzato la città per 11 anni per collegare e ancora oggi un terzo di città la vogliono proporre come metodo di collegamento tra Firenze, Prato e Pistoia. Cioè forse nel 2090 con questi ritmi avremo un sistema di collegamento. Quindi un documento che dice poco o niente e che quindi il nostro voto sarà un voto molto politico, un voto contrario molto politico. Un bilancio importante. Abbiamo fatto bene a forzare per approvare entro la pausa estiva il bilancio di previsione e le relative variazioni e defre. Era doveroso perché i comuni aspettano risorse della regione, le imprese le aspettano, le infrastrutture, l'agricoltura, la montagna. Tanti investimenti, penso alla disabilità, penso alla viabilità, penso a tante questioni importanti. Il bilancio è la cosa più importante e altre discussioni possono attendere anche dopo l'estate. Adesso aver chiesto la candidarizzazione della variazione di bilancio secondo me è stato positivo e noi sosterremo convintamente questa variazione che ha trovato risorse importanti in tanti settori e anche richieste che noi avevamo fatto. Penso all'agricoltura, penso al sociale, penso ai tartufai, penso alle viabilità, a questioni di carattere formativo, scolastico delle università. Convintamente contrari perché innanzitutto ci è stata buttata letteralmente addosso, proprio a breve distanza dal documento regionale di finanza e da molti altri atti corposi. Chiaro che è stato fatto per non darci la possibilità di analizzarlo, ma in realtà guardandolo con un occhio un poco più attento ci siamo accorti che sono soltanto dei piccoli interventi localistici probabilmente per esigenze che ben poco hanno a che vedere col più ampio respiro che una variazione di bilancio dovrebbe avere. Per esempio ci aspettavamo di più per i PETS, i programmi educativi zonali, ci aspettavamo più per altri settori, invece ci siamo accorti che è stata una manovra semplicemente con altri scopi, ma senza niente di rilievo, addirittura con delle erogazioni ulteriori straordinarie, in realtà ordinarie perché avvengono ogni anno alla Fondazione Alinari, al Festival Pucciniano e assolutamente fuori luogo secondo me in momenti emergenziali come questo. È una soluzione assolutamente negativa, guardate lì dentro, dentro il documento economico e finanziario della Regione Toscana e nelle due proposte di legge che parlano delle variazioni di bilancio non c'è niente che ci porti a votare a favore, non ci sono misure di sostegno alle nostre imprese, alle nostre famiglie, non ci sono misure di sviluppo del nostro territorio, non c'è programmazione, non c'è una visione della Regione Toscana, è una legge mancia, le parole hanno un peso e le leggi devono essere chiamate come sono, ci sono soltanto delle piccole mancettine ad associazioni culturali, pensate che il 3% di quel documento lì è destinato alla valorizzazione e alla promozione delle associazioni culturali che per noi la cultura vale, sì è importante, ma vale 5,3 miliardi del PIL della Regione Toscana, mentre per le imprese, per il sostegno all'export, per il commercio, per il turismo, per tutte le misure che riguardano le nostre imprese, che nella nostra Regione, il nostro PIL vale 143 miliardi, il 70% è fatto da quel spicchio lì, c'è soltanto lo 0,98% delle risorse. E allora ci domandiamo come possono essere aiutate le imprese in un momento così difficile. La Toscana, secondo i dati della Banca d'Italia, è la prima Regione in Italia ad essere stata duramente colpita, abbiamo perso il 13,8% del nostro prodotto interno lordo e come si pensa di aiutare le imprese dando le mancette. Ecco noi siamo contrari a questo modo di far politica, non è il modo di Forza Italia, abbiamo sempre pensato che dobbiamo aiutare le imprese, perché aiutando le imprese si aiuta i lavoratori e le famiglie. Ecco perché abbiamo chiesto misure di interventi strutturali per aiutare la nostra economia, non certo dare qualche centinaia di migliaia di euro a chi non porta lavoro, a chi non porta economia. E poi non c'è una misura sostanziale, non ci sono le infrastrutture, non c'è nessuna parola sullo sviluppo dell'infrastruttura più importante del nostro territorio. L'aeroporto di Firenze, anzi in quel documento economico e finanziario della Regione Toscana, l'aeroporto di Firenze viene quasi declassato, non viene assolutamente menzionato. Ecco perché abbiamo portato un ordine del giorno all'attenzione del Consiglio regionale, che mi auguro tutte le forze politiche voteranno, che dice una cosa chiara, si vada avanti col nuovo aeroporto di Peretola con la nuova pista in un sistema regionale di alleanze fra Pisa e Firenze, perché se il sistema aeroportuale toscano non va avanti, la Toscana perderà e ne beneficerà soltanto Bologna. Una governance diffusa per valorizzare, promuovere, tutelare e riconoscere il patrimonio identitario della Toscana rappresentato dalle tante rievocazioni storiche al centro della proposta di legge approvata dal Consiglio regionale con 24 voti favorevoli e 4 astensioni, che prevede lo stanziamento di 500.000 euro l'anno fino al 2023. Approvato anche un ordine del giorno della Lega per dare in concessione ai privati immobili di proprietà dello Stato o degli enti locali per un periodo fino a 50 anni, così da ampliare lo spettro dei possibili fruitori ai beni dei piccoli centri e borghi. È una legge molto importante che è stata approvata nel Consiglio di mercoledì 28 luglio e che prevede non soltanto, rende operativo lo stanziamento di 500.000 euro all'anno che era stato previsto nel bilancio, ma prevede grandi novità dal punto di vista delle modalità di erogazione. Le associazioni e le istituzioni che realizzano rievocazioni storiche potranno coprogettare con gli enti locali gli eventi, le cerimonie, le iniziative secondo le modalità previste dalla legge sul terzo settore. È la prima applicazione della riforma del terzo settore che abbiamo visto nelle scorsi mesi essere approvate e che adesso davvero trova realizzazione. È una legge la nostra che ha cercato di andare incontro alle esigenze delle associazioni che realizzano queste importanti rievocazioni, così sentite dalla cittadinanza e che anche ha cercato di sollecitarne e sottolinearne il valore culturale. La novità della collaborazione con le scuole sia nella fase di progettazione sia dal punto di vista poi della fruizione degli eventi è uno di questi elementi e l'istituzione di un osservatorio scientifico che sorvegli sulle iniziative, sul calendario, che dia un contributo di consulenza è l'altra novità importante. Ecco, una governance che avrà il suo centro nella regione, consiglio e giunta e nella collaborazione soprattutto con le associazioni presenti in tutto il territorio, oltre che con una componente di sindaci che rappresentano le istituzioni e gli enti locali che poi sono i primi protagonisti, insieme alle associazioni, di questo mondo affascinante, complesso e molto molto vicino ai sentimenti dei Toscani e delle Toscane, che è quello delle rievocazioni storiche. Via libera al documento di economia e finanza regionale 2022 dopo l'approvazione di tre emendamenti presentati dal gruppo PD. A sintetizzarne i contenuti, il presidente della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, Giacomo Bugliani del PD. Le tre grandi aree di analisi sono il quadro economico e sociale generale, la manovra finanziaria per il 2022 e il piano di razionalizzazione delle società partecipate. Il Consiglio regionale ha approvato il documento di economia e finanza per l'anno 2022, che è il principale documento programmatorio per l'attività di governo della regione toscana per il prossimo anno. Un atto programmatorio che dovrà essere integrato dalla nota di aggiornamento al DEFRA che arriverà in autunno e che deve comunque saldarsi con un quadro che non è ancora propriamente integrato, poiché la parte programmatica di questo documento ha bisogno di ancorarsi al piano regionale di sviluppo che al momento non è ancora stato posto all'attenzione del Consiglio regionale da parte della Giunta. Inutile dire che il quadro nel quale si inserisce questo documento di economia e finanza è un quadro estremamente complesso, derivante dagli effetti della pandemia, alla luce del quale è difficile anche calibrare esattamente quale potrà essere la manovra per l'anno 2022. L'unica certezza che ad oggi abbiamo è che quella manovra non potrà comportare degli aggravi fiscali a carico dei cittadini, perché questo sarebbe incompatibile con le prospettive di ripresa dell'economia che tutti ci auguriamo possano esserci alla fine della pandemia. In ogni modo c'è una parte importante di questo documento che si occupa delle società partecipate della Regione Toscana, soprattutto quelle che presentano profili di criticità, evidenziando una serie di aspetti che consentano di superare queste problematiche quanto prima possibile nell'interesse stesso dei servizi che queste strutture erogano. Il documento di economia e finanza quindi dovrà necessariamente anche essere integrato da una serie di valutazioni, soprattutto anche date dalla capacità che dovrà avere la Regione Toscana di poter contribuire ai cofinanziamenti necessari per l'adozione di misure che vengono dagli investimenti comunitari. Il Consiglio regionale ha quindi approvato questo atto facendo un atto di fiducia nei confronti dell'amministrazione regionale in attesa che arrivi la vera e propria programmazione del piano regionale di sviluppo che credo attenda l'aula del Consiglio regionale nel prossimo autunno. Il documento economico finanziario regionale 2022 è tutto tranne che è un documento di programmazione, cioè quello che dovrebbe essere, è un documento monco, è un documento con tante aree non approfondite, è un documento che lascia anche basiti perché dimostra una scarsissima programmazione da parte della Giunta. Un esempio su tutti, cioè noi dobbiamo fare i conti con quello che sarà il mondo, non soltanto la Toscana, ma il mondo nei prossimi cinque anni. Il mondo nei prossimi cinque anni vivrà, e non lo dice Francesco Dorsali, lo dicono gli economisti, vivrà una ripresa economica sicuramente ma alla quale non corrisponderà un aumento di ricchezza. Purtroppo l'Italia è il Paese che in Europa sta pagando più di tutte le altre il calo di ricchezza, quindi noi avremo un aumento di disoccupazione dovuto allo sblocco dei licenziamenti. Avremo tante attività piccole, commerciali e medie imprese che saranno costrette a chiudere e rappresentano il tessuto produttivo del Paese. Avremo tante persone che non potranno più permettersi nemmeno di pagare le tasse, perché non ci dimentichiamo che in Italia c'è la cultura delle tasse, l'italiano medio è quello che, anche se ha difficoltà economiche, non viola mai la bolletta da pagare o il modulo delle tasse da pagare dentro la data corretta, ma a gioco forza nei prossimi anni questo diminuirà. Non ci sarà più questo gendito tributario al cui siamo abituati e la Regione Toscana non ha pianificato nessun tipo di entrata alternativa. Ha fatto meramente un calcolo, cioè entreranno meno soldi? Perfetto. Meno soldi, più tagli. E l'allarme sui tagli non è lanciato soltanto dalle opposizioni. L'allarme sui tagli è lanciato da Ufi, è lanciato da Anci. Tutti stanno attaccando la Regione Toscana che sta rispondendo ad un calo, ad un aumento della povertà con aumento di tagli. Faccio una domanda. Vi immaginate quello che può accadere nella sanità. La sanità da due anni si occupa soltanto dell'emergenza coronavirus, ma nei prossimi anni dovrà tornare a fare quello che ha fatto di ordinaria amministrazione fino ad oggi. Dovrà tornare a fare la prevenzione cardiovascolare, la prevenzione oncologica, la chirurgia di routine. Quindi aumenteranno i costi della sanità, perché aumenteranno tornando agli standard di qualche anno fa, e la previsione del documento economico e finanziario regionale di andare a tagliare sulla sanità, perché entreranno meno tasse. Quindi questo è un documento che mette in ginocchio la Toscana nei prossimi anni. Io mi auguro che già dal prossimo anno si riesca a invertire la tendenza, altrimenti non si profilano anni facili per la nostra regione.